Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo ancora del terremoto e della messa in sicurezza di case Cappannoni. Nella prima puntata abbiamo parlato delle case e di quali sono i lavori che possono rendere più tranquilli i proprietari rispetto al rischio sismico, specialmente in zone in cui in precedenza, come in Emilia Romagna, non erano considerate sismiche. In questa puntata parliamo invece dei Cappannoni. Nelle scosse di terremoto che sono state il 20 e il 29 di maggio in Emilia Romagna, in particolare nella seconda e il 29 di maggio, sono morte 17 persone. Buona parte di esse erano lavoratori, imprenditori e tecnici che stavano lavorando o effettuando delle verifiche all'interno di Cappannoni industriali recenti. Quindi abbiamo intervistato una serie di esperti per analizzare perché sono crollati questi Cappannoni e cosa si può fare per metterli in sicurezza. Il tema per un Cappannone è molto complicato perché è una struttura particolare. È una struttura quasi sempre completamente aperta che ha solo dei tamponamenti laterali e delle travi molto pesanti in cima. In generale si tratta comunque di strutture che non hanno molte riserve per sopportare azioni orizzontali. Non mi meraviglio affatto che siano venuti giù se non sono stati progettati tenendo conto adeguatamente le azioni sismiche. Gli esiti del terremoto hanno dimostrato una fragilità dell'edilizia industriale. Sto parlando ovviamente dei Cappannoni. Persino ci è sembrato che l'edilizia industriale si sia dimostrata più fragile di quella dell'edilizia civile. Ma cosa è successo? Perché? I Cappannoni sono delle strutture particolari che se non ben progettate e ben realizzate non hanno grosse riserve per poter resistere azioni sismiche più violente rispetto a quelli per le quali sono state progettate. Per quello che riguarda il quadro normativo, rimanendo sempre nell'ambito degli edifici industriali, quindi dei Cappannoni industriali, già la norma aveva previsto chiaramente fin dal 2003 che determinate zone d'Italia, praticamente tutta l'Italia, era considerata a rischio sismico. Quello che non era andato di pari passo era stata una norma sulle costruzioni che rendesse obbligatorio considerare queste nuove mappe di pericolosità. Quello che è avvenuto invece nel 2009, quando le nuove cosiddette NTC 2008, le norme tecniche per le costruzioni, hanno chiarito definitivamente la necessità di costruire considerando le mappe di pericolosità sismica del 2003. A questo punto quindi abbiamo una situazione normativa per cui tutti gli edifici realizzati a partire dal 2009 sono edifici che sicuramente presentano una resistenza sismica sufficiente e adeguata a quello che è la pericolosità sismica di tutti i siti, compresi quelli delle zone terremotate dell'Emilia. Per quello che invece attiene agli edifici precedenti è stato chiaro con un nuovo decreto trasformato poi in legge che tutti gli edifici di tipo industriale vanno verificati per la loro effettiva vulnerabilità sismica, con una piccola differenza. In particolare se il terremoto effettivamente subito durante gli eventi sismici di maggio è stato almeno il 70% del terremoto previsto dalle mappe di pericolosità sismica, di fatto si considera che questo edificio è stato collaudato dal sisma, ha resistito al sisma, ovviamente se è rimasto in piedi. Quindi questi edifici non hanno bisogno di ulteriori verifiche, il sisma li ha verificati. Al di sotto di questo 70% di intensità sismica, normalmente la maggioranza dei capannoni presenti nel cratere, sono edifici che necessitano di un controllo entro sei mesi dall'emanazione del decreto e successivamente da questo controllo gradualmente vanno risistemati e ne va modificata la resistenza al fine di adeguarsi o quantomeno di migliorarsi come performance di resistenza strutturale al terremoto. Queste tempistiche sono sostanzialmente dai 4 agli 8 anni, quindi entro 4, da 4 sino a 8 anni a seconda della situazione statica dell'edificio sono i tempi nei quali è richiesto dalla legge un adeguamento sismico. Professore, perché sono stati soprattutto i capannoni industriali a crollare nella seconda ondata sismica in Emilia? In quella zona i capannoni industriali sono stati progettati per essere in una zona non sismica, quindi sono progettati ad azione del vento, sono progettati ad eventuali azioni di serpeggiamento per movimenti di carroponte se presenti, ma non sono progettati per assorbire movimenti sussultori e ondulatori tipici di un sisma. Solo oggi, cioè dopo il 2003, quella zona è diventata sismica. E si poteva evitare? Come? Io credo che tutte le volte che vengono introdotte delle forti discontinuità normative occorre mettere in campo anche un adeguamento di tutti gli altri edifici. In particolare per questi edifici che sono edifici di grande qualità, non sono dei castelli di carta come qualche volta sono stati dipinti sui nostri mass media o nei nostri giornali, in realtà sono edifici di grande qualità ma che possono essere facilmente irrobustiti attraverso l'introduzione di connessioni, perché essendo edifici slegati e basati sull'attrito perché in zona non sismica possono facilmente essere riadattati per diventare edifici capaci di assorbire le spinte sismiche in presenza di connessioni. Questo capannone ha resistito molto meglio degli altri per effetto del collegamento dei vari elementi strutturali prefabbricati. I chiodi lì che mancano in tutti i capannoni, che è anche la lunghezza proprio stessa di quella, diciamo, di quel collegamento. Vista così sembra una banalità da profano. È una banalità. Lei mi dice che basterebbe aver messo una vite o una trave passante per metterlo in sicurezza. Diciamo che questo è uno degli elementi fondamentali. La regione Emilia-Romagna, tranne la parte verso il mare e alcune zone dell'Appennino, non era zona sismica, non era soggetto a nessun tipo di normativa particolare. Quindi sono stati costruiti nel rispetto delle norme per sopportare soltanto in modo statico, quindi in modo fermo, dei carichi verticali. Il sisma invece è una forza in movimento orizzontale e soltanto da pochi anni la regione Emilia-Romagna è diventata zona sismica, quindi purtroppo c'era poco da fare. E adesso si può fare qualcosa? Adesso che abbiamo visto che cosa il sisma produce, i fabbricati che erano stati calcolati e previsti in un altro modo possiamo intervenire, quindi fare in modo che le nostre strutture sopportino o riescano a resistere anche a carichi in movimento ed orizzontali. In questa maniera qui, se noi facciamo sì che la nostra struttura li sopporti questi carichi e dopo saranno anche in grado di resistere al sisma e quindi vuol dire non fare morire nessuno, perché l'obiettivo è i fabbricati nuovi, sì che rimangano in piedi ma che la gente non muore. Ci si ferma spesso a parlare di componenti strutturali, quindi alle strutture intelaiate, le murature portanti eccetera e qualche volta si trascurano quegli elementi che comunque possono essere fonte di gravi danni. Parlando di elementi non strutturali, sono i manti di copertura, le tramezzature, anche in questo caso controsoffitature, murature di tamponamento, tutti quegli elementi che non hanno una progettazione strutturale a monte e che quindi c'è bisogno anche in sede di allestimento del cantiere di mettere in evidenza. Altra esperienza che associa ovviamente le verifiche di agibilità che faccio come componente del nucleo di valutazione regionale rispetto all'esperienza con il cantiere è cercare di mettere in evidenza quali sono gli errori in sede esecutiva. Praticamente quelli sottovalutazioni che vengono fatte all'interno della gestione del cantiere su errori costruttivi, quindi non mettere in opera quello che forse è correttamente stato progettato, facendo dei raffronti ovviamente con le conseguenze che poi uno va a vedere quando fa le verifiche di agibilità. Mancati i collegamenti dei ferri d'armatura, delle travi all'interno del nodo, travi pilastro, staffe all'interno di alcune componenti strutturali che si perdono sempre in strutture in cemento armato, esecuzione di getti fatti male di calcestruzzo e situazioni di questo genere. Ci sono stati danni ai capannoni recentemente costruiti e invece magari meno danni a strutture più vecchie. Si apre, secondo me, una riflessione che riguarda il sistema della prefabbricazione, le modalità di ancoraggio delle parti, la problematica della pesantezza dei singoli elementi, delle modalità di connessione. È abbastanza stupefacente che strutture piuttosto nuove, costruite in un contesto di norme tecniche che già attuate, seguiti da sistema, abbiano avuto danni così rilevanti e in casi estremi hanno comportato la perdita anche di vite umane. Ribadisco che è piuttosto sorprendente che strutture nuove, progettate, calcolate, realizzate in contesto di norme tecniche piuttosto evidenti e significative, abbiano avuto questi danni. Il sistema, secondo me, merita una riflessione, nel senso che andranno riviste alcune di queste modalità, andranno riviste le modalità di connessione, andranno rivisti meccanismi di stabilizzazione di questi elementi prefabbricati, di queste strutture. Per rassicurare anche i proprietari e i titolari di questi piccoli capannoni, prima di tutto risalire all'epoca di costruzione dei capannoni, risalire alla documentazione progettuale che hanno in mano, perché alle volte esiste e alle volte non esiste. E quindi è importante riferirsi anche ai loro tecnici per capire bene quali sono i requisiti di resistenza dal punto di vista sismico che queste strutture industriali hanno. Ce ne sono di molte buone, perché in Italia ci sono strutture molto buone, e ce ne sono di meno buone. Ecco, questo è il primo punto che posso dare. Oggi la normativa sismica italiana sui capannoni esiste, è buona, è una normativa che ha una valenza sicuramente a livello mondiale, perché è riferita un po' secondo le regole di tutto il mondo, quindi è una buona normativa. Io consiglio ai titolari di rivolgersi a dei tecnici specialistici bravi, che ce ne sono tanti, ci sono dei bravissimi ingegneri, e che facciano fare una diagnosi, cioè dei raggi X e la loro struttura. Un altro argomento molto interessante sulla sicurezza sismica, non è solo l'involucro esterno, l'involucro edilizio, il capannone, ma sono anche tutti i macchinari interni, tutte le impalcature, tutte le scaffalature e tutti gli impianti. Quindi anche questo è un altro tema che i proprietari di azienda devono pensare, che bisogna intervenire anche in questi settori, che portano dei danni notevoli. Il problema delle scaffalature, quando all'interno di un capannone, pensiamo a un centro commerciale, oppure anche a un grande magazzino, il grande magazzino stiva le merci su delle strutture, sono vere strutture interne, che sono gli scaffali. Questi scaffali sono strutture che non hanno resistenza sismica, perché sono messe in piedi, sono molto labili, sono come dei castelli, e quindi essendo di per sé delle strutture interne del capannone, ma poiché non hanno resistenza sismica, sotto azioni inerziali, e questi tendono a cadere, come in realtà la situazione dimostra. Quindi anche queste scaffalature, sto pensando alle scaffalature, ma sto pensando agli impianti tecnologici, sto pensando a tutti gli armadi che contengono dei...